Perché è importante allenare anche la parte superiore per un corridore? Innanzitutto per un discorso posturale, più siamo tonici e forti sulla parte superiore del corpo, più riusciremo a mantenere una postura corretta, più a lungo nella corsa e soprattutto nella nostra vita quotidiana. Oltre ad essere importante per tutti i corridori, diventa ancora più importante e fondamentale per chi corre dovendo portare uno zaino, per chi fa trail running o per chi magari fa delle spedizioni e delle traversate. E infine perché prima di essere corridori siamo esseri umani ed avere un corpo forte, tonico e resiliente è la base per la nostra sostenibilità. Uno dei migliori modi per allenare la nostra forza è quella di utilizzare il nostro peso del corpo, quindi allenarci a corpo libero. Ed oggi andiamo a vedere quelli che sono i migliori esercizi di base con cui partire fin da subito per potenziarsi, migliorare la propria postura, recuperare una parte superiore del corpo forte che ci permetta poi di correre meglio, più veloce e più a lungo. Il primo esercizio a mio avviso tra i migliori in assoluto per rafforzare la parte superiore del corpo sono i piegamenti sulle braccia. Ovviamente come tutti gli esercizi bisogna svolgerli al meglio e senza rischiare di farsi male. Questo è un esercizio molto funzionale alla corsa perché se svolto bene va a lavorare anche sul core, su quella cintura di connessione tra la parte inferiore e la parte superiore del corpo. Il secondo esercizio che voglio mostrarvi è, oltre ad essere un esercizio e anche un movimento tipico dell'essere umano fondamentale per ognuno di noi, è l'hanging, o meglio l'appendersi a una sbarra. Questo movimento è molto utile per la manutenzione del corpo e se abbinato allo squat di cui abbiamo ampiamente parlato vi garantirà di riuscire a fare una manutenzione davvero ottimale. In questa fase non vi sto chiedendo di fare delle trazioni alla sbarra, cosa che magari dopo un po', dopo un po' di pratica o se siete abbastanza forti e ci avete già lavorato, potrete anche fare perché sono un validissimo esercizio e magari lo esploderemo e lo racconteremo in un video successivo. Qui vi sto chiedendo di appendervi ad una sbarra e restare appesi. Questo esercizio, oltre a rafforzare e potenziare la nostra presa, quindi le nostre avambraccia, le nostre braccia, a lavorare da manutenzione per le nostre spalle, è anche un ottimo esercizio posturale che va a lavorare su quella che è la nostra postura. È un ottimo esercizio di stretching e mobilità articolare che andrebbe svolto su base quotidiana e soprattutto magari anche a fine allenamento. Appendersi è per l'essere umano un movimento vitale e fondamentale, purtroppo oggigiorno le opportunità per farlo sono sempre meno. Vi invito a ricercarle, oltre ad appendervi su una spalliera, farlo anche magari in natura, perché no utilizzando il ramo di un albero. Avere una presa forte, delle braccia forti, potersi permettere di appendersi e quindi di far lavorare le spalle a quei range di movimento sarà fondamentale, una boccata d'aria fresca per il vostro corpo e andrà, oltre a rafforzarvi, anche a migliorarvi la postura e rendervi più forti durante la corsa e durante la vostra vita quotidiana. Il terzo esercizio che voglio farvi vedere è un movimento, è uno schema motorio di base dell'essere umano, è il trasportare oggetti. Oltre ad essere un schema motorio dell'essere umano, un movimento fondamentale, credo davvero che è il migliore esercizio per rafforzare il nostro corpo, la nostra camminata, la nostra corsa, potenziarlo e migliorare, recuperare la nostra postura. Non serve andare chissà quanto tempo indietro, già i nostri nonni dovevano essere forti e abili nel trasportare oggetti a mano, cosa che noi oggigiorno abbiamo perso e che ritornare a fare vi garantirà il recupero di una forza che poi vi ritroverete durante le vostre corsi. Tre semplici esercizi che potete utilizzare quotidianamente, che potrete scalare a seconda della vostra condizione attuale, della vostra forza attuale e vedrete che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, noterete enormi miglioramenti sia negli esercizi stessi che nella vostra corsa e nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda serie e ripetizioni non vi do nessuna indicazione in quanto sarebbe davvero poco utile per voi. Sono cose infatti molto soggettive che dipendono dal vostro livello di preparazione fisica attuale, dalla vostra forza, dai vostri obiettivi e da tantissimi altri aspetti. Quello che invece mi sento di dirvi, la regola di base è di crescere negli esercizi giorno dopo giorno. Quindi trovate un numero di ripetizioni che sia idoneo per voi ad oggi, non fate mai fatica, fate in modo di adattare il vostro corpo e cercate di inserirle per quanto possibile nella vostra quotidianità. Vedrete come giorno dopo giorno, se avrete costanza, diventerete più forti e riuscirete ad aumentarne il volume e l'intensità o magari, se state iniziando con gli esercizi base, ad andare verso l'esercizio nella sua forma più avanzata. E allora non mi resta che augurarti di fare gli esercizi fin da subito, buone corse e mi raccomando, goditele!